Passa un giorno, due, tre, una settimana, passa un mese che già stava in ammollo. Guarda, riguarda, hai voglia di slungare il collo, l'America era sempre più lontana. E ogni tanto veniva una buriana, lampi, furmi, giù, arrotta di collo, roba da dire, qui se va tutti e scapi collo. E dopo una giornata sana di tempesta, schieriva, a poco a poco, l'aria. Scottava che pareva un forno a respirare, se respirava il fuoco. E come che rialzavano la testa, quelli avanti passavano un altro giorno, parapunfate giù. Un'altra tempesta. E figurati quelli che c'è stavano, figurati che razza d'allegria. Avanti, sempre, avanti, tribolavano, e l'America sì, vattela a pigliare. E poi con tutte quelle bocche che magnavano, magna magna, se sa, per quanto sia, le provviste più stavano e più scalavano. Roba di, qui è meglio venire via. E di fatti, capisci, un po' per volta, cominciavano a dire, ma dove andiamo? Ma sta cilette qui, dove c'è porta? E a botta a botta, venne il giorno che fecero per Cristo. Ma che fanno? Gli agniedero davanti e gli parlorono. Sa, gli fecero, dice, c'è dispiace, c'è dispiace di dirlo davanti. Ma qui, chi più, chi meno, a tutti quanti, sta bugiarata qui, poco ci piace. Per cui, lei pure, fatevi capace, che qui non ci sono né angeli né santi. Qui, ogni giorno di più che se va avanti, se va dalla padella della brace. Avanti, avanti, so parole belle, ma qui non ci so tanti sacramenti. Qui, qui si tratta della pelle. Già, speriamo che se sia persuasa, se no non faccia complimenti, vada pure. Ma noi tornavo a casa. Eh già, se c'avevi io st'intenzione, facevi io te meno del far viaggio. Ma riflettaci al momento dell'ingaggio, e non mo' che stamo qui in agitazione. Ma che non se sa, che quando qualcuno si espone, ha da stacco il vantaggio e lo svantaggio. Almeno così fa chi ci ha il coraggio. E glielo disse bene, e coragione, perché quando uno, caro mio, se vanta del senomo d'onore, quando ha dato la parola sua, deve essere sacrosanta. E sia lunga la strada, o brutta, o bella, ma cara Cristo ha d'amore ammazzato. Ma la parola sua deve essere quella. Ma d'altra parte, pure quelli surcinati, pure loro, tocca compatirli, lì, da soli, in mezzo al mare, se dice presto, rimanere tranquilli. Sì, capisco di chi te ci siete annati, ma è inutile far tutti sti strilli. Sì, vabbè, ma dove erano arrivati? Che facevano lì? Qui sta il busilli. Ogni giorno, era come il giorno appresso. Oggi era brutto, speravi domani, te svegliavi domani, era lo stesso. E senza mai sapere dov'uno annasse, Cristo Gesù Maria, manco l'Irani. E deve essere stato un gran brutto, trovasse.